Maestro, lo sentite? Sì, sta arrivando. Il castello è ormai vicino, ci pensano io ad affrontarlo. Ci avviciniamo al castello di Ceite. Tra poco dovremmo vederlo. La dimora di Carmilla, la contessa sanguinaria. Ne avrai sentito parlare. Il suo regno del terrore è durato 5.000 anni, poi è stato bruscamente interrotto. Tuo padre, il vampiro supremo, un bel giorno si adirò. Non sopportava più la sua vanità ed era offeso dalla sua sete di sangue, dalla sua ingordigia. Ed era così esasperato che la uccise mentre dormiva infilzandola con la sua spada. E fu la fine per Carmilla. Adesso infesta il castello in compagnia di fantasmi e demoni. Ma non te ne frega niente, vero? Scommetto di sapere cosa ti dà fastidio, amico mio, cosa ti manda terribilmente in bestia. Il pensiero che i due piccioncini possano dare vita a un nuovo Dampier. Non è così? Lo vedi? Io ti conosco bene. So cosa pensi. So cosa provi. So ogni mossa che hai in mente di fare. Tu non puoi sfuggire al... Il pensiero che ti dà fastidio, amico mio, cosa 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 ti